I carabinieri della stazione di Fanno hanno denunciato a piede libero due ragazzi del posto, di 18 e 16 anni, per il furto di attrezzatura da pesca e di bordo e per il danneggiamento di quattro imbarcazioni da diporto. I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio scorso. A dare le allarme erano stati proprietari delle imbarcazioni che la domenica mattina si erano accorti degli atti vandalici. I lucchetti erano rotti, le cassette degli attrezzi erano state rovesciate nell'acqua ed erano stati asportati fumogeni e razzi che fanno parte della dotazione di sicurezza. Ma non solo, mancavano canne per la pesca dei tonni, un ecoscandaglio munito di GPS, un binocolo e due sedute in pelle, danni anche alla manetta di accelerazione del motore di un natante ed alcuni cuscini tagliati e privati delle piume. Dopo la denuncia, i carabinieri si sono messi sulle tracce dei responsabili partendo dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che avevano immortalato due giovani, uno intento a svuotare un cuscino dalle piume e accendere un fumogeno, l'altro a riprenderlo con il telefonino. Il diciottenne è stato subito riconosciuto dai militari grazie alla profonda conoscenza del territorio, mentre le successive attività mirate a identificare la cerchia dei suoi amici ha permesso di rintracciare il complice. Infatti, durante un controllo, le forze dell'ordine li hanno trovati insieme e in quell'occasione i sedicenne aveva parte dell'abbigliamento indossato quella notte. Visti gli elementi raccolti, i militari hanno chiesto con urgenza le perquisizioni a carico dei ragazzi eseguite ieri mattina e all'esito delle quali sono state rinvenute per poi essere restituite ai legittimi proprietari l'ecoscandaglio e tre delle quattro canne da pesca asportate, oltre all'abbigliamento utilizzato durante il raid notturno. Ai giovani non è rimasto altro che ammettere le proprie responsabilità. Inoltre, hanno riferito ai militari che i fumogini e i razzi erano stati sparati da loro solo per divertimento. Ora, nel processo penale, le vittime potranno costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti, che ammontano complessivamente a circa 5.000 euro.